Ciao a tutti e bentornati in questo nuovissimo video Anche oggi farò un video diverso Allora, come vi ho detto l'altro giorno Se vi ricordate bene, ho sponsorizzato a Romolo L Di andare a iscrivervi al suo canale Oggi sponsorgerò un altro mio amico Che ha il canale che si chiama Alexander Model Cars, se non sbaglio Ok? Andate a iscrivervi al suo canale E, beh, come posso dirvi Il link è sotto in descrizione Lo potete trovare dove c'è la freccetta Che se pigiate vi fa vedere tutto quello che c'è scritto di sotto E che dire, spero che questo video sponsor vi sia piaciuto Ah, e oltre ad iscriversi al suo canale Iscrivetevi anche al mio canale Se non l'avete ancora fatto Attivate la campanellina E l'importante Anche spolliciare Ma spero che i video vi piacciono Poi vi ringrazio anche per i 30 iscritti Che abbiamo, che non me la sarei proprio aspettata Ringrazio anche il Romolo L, punto Per avermi sponsorizzato Per avermi fatto io fare tanti iscritti Beh, andate ad iscrivervi a tutti e due Al canale di Romolo L Tutti al canale di Romolo L E anche di quello là di Alessandro Mi raccomando, perché sono brave persone E che dire, spero che questo video vi sia piaciuto E ci vediamo al prossimo video Ciao